La revisione del POR Calabria 2014-2020 tra i dati più salienti della Commissione Bilancio è riunitasi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Aieta. L'organismo consigliare ha espresso parere favorevole alla proposta dell'Aggiunta regionale che adesso verrà notificata alla Commissione europea. Il presupposto, ha spiegato il Presidente, è adeguare le scelte programmatiche iniziali al mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria. Con questo provvedimento si apportano modifiche all'elenco dei grandi progetti presenti nel POR e ad alcune risorse recuperate saranno dirottate in vari importanti settori, ad esempio l'acquisto di bus elettrici per tutelare l'ambiente. La Commissione ha espresso inoltre parere favorevole alla proposta di legge d'iniziativa dell'Aggiunta regionale sulla tema riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e all'unanimità alla bilancio di previsione dell'azienda Calabria Lavoro per il triennio 2018-2020. Parere favorevole anche alla proposta di iniziativa dell'Aggiunta regionale e modifiche alla legge regionale 26 novembre. Soddisfatto, il Presidente Aieta ha dichiarato come sia stata una seduta molto proficua. Intanto oggi abbiamo rimodulato il POR, una decisione dell'Aggiunta che abbiamo accolto all'unanimità tra l'altro perché abbiamo postato delle risorse finanziarie sul credito di imposta per le aziende calabresi e sull'acquisto di bus e mezzi di trasporto pubblici elettrici a tutela ovviamente dell'ambiente. Il tutto rientrando ovviamente nella strategia della Commissione europea per la Calabria. Abbiamo approvato l'ennesimo bilancio, credo siamo al 53-54 bilancio approvato in questi anni. Questo riguarda l'azienda Calabria Lavoro che ne era sprovvisto, così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi con le altre aziende e gli endi strumentali della Regione Calabria. Questa è stata una grande azione di bonifica degli endi strumentali. Insomma società, aziende che brangolavano nel buio e nella confusione, nel disordine dei loro conti abbiamo bonificato, questo grazie ad una pressante richiesta del Presidente Oliverio e la Commissione ha raccolto sempre questo grido d'allarme, tant'è che oggi il nostro report sull'approvazione dei bilanci è abbastanza cospicuo. E poi abbiamo approvato un'importante legge sulla ricettività turistica e sui BNB facendo riferimento anche a vecchie leggi che abbiamo approvato in questa legislatura come per esempio la legge del Consigliere Orsomasso sugli affittacamere. Insomma, un lavoro che sul turismo sta dando i propri frutti e che attraverso queste leggi, i bandi che sono in corso, quelli che stiamo per pubblicare e che sono in preinformazione daranno ossigeno all'economia calabrese, alla ricettività turistica calabrese, alla riqualificazione dell'offerta. In un clima ovviamente di grande, insomma, nonostante gli ultimi scossoni politici che stiamo registrando, la Commissione Bilancio registra invece responsabilità, consapevolezza, il momento delicato che vive la Calabria e quindi con maturità politica dà il suo contributo.